Contagio e ricoveri in calo in Abruzzo, un nuovo record di decessi, sono 21 il Ministro della Salute e Speranza lunedì all'Università di Teramo. A palti pilotati per i servizi psichiatrici, extra ospedalieri, ufficialmente indagato anche il DG Ciamponi, Marsilio ascoltato come persona informata sui fatti. Tavoli apparecchiati in piazza Salotto e ristoratori di Pescara, vogliamo una data certa per le riaperture, con loro anche baristi, organizzatori di eventi e showman. Questa sera alle 20.30 torna a Pescara Time, focolaio Covid, gara con le Intel a rischio, poker di sconfitte per il Teramo, serve una reazione contro il Bisceglie. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione, a cura della redazione giornalistica di Vera TV, apriamo con l'emergenza Covid, sono ben 21 i morti e 174 i nuovi casi di positività. In Abruzzo diminuisce però il numero di pazienti negli ospedali e sale quello dei guariti, sono 302 nelle ultime 24 ore. Il punto è di Sara del Vecchio. Diminuiscono i contagi in Abruzzo ma preoccupa il numero dei morti. Sono 21 i decessi associati al Covid, secondo l'ultimo report diramato dall'assessorato alla sanità della regione. 8 sono però avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Il bilancio dei pazienti deceduti sale dunque a 2269, di età compresa tra 60 e 102 anni, 6 in provincia di Chieti, 6 in quella di Pescara, 4 in provincia di Teramo e 5 nell'Aquilano. Rispetto a ieri si registrano 174 nuovi casi, di età compresa tra 1 e 94 anni, 302 sono i nuovi guariti. Eseguiti 3.238 tamponi molecolari e 1.987 test antigenici, il tasso di positività è pari al 3,3%. Diminuiscono i ricoveri, sono 553 i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, quindi meno 16 rispetto a ieri. 59, meno 5 rispetto alla giornata di ieri, sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli altri 9.649 sono in isolamento domiciliare. Ecco la ripartizione dei 174 nuovi positivi, 89 i nuovi contagi registrati in provincia dell'Aquila, la più colpita, 13 in più rispetto a ieri nel territorio chietino, 6 positivi in provincia di Pescara, 54 i casi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Teramo, 549 fuori regione e 189 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il ministro della Salute e Speranza lunedì sarà all'Università di Teramo, come aveva annunciato proprio ai nostri microfoni il rettore Dino Mastrocola. Sentiamo Alfredo Giovannozzi. Un anno fa il Presidente della Repubblica, lunedì il ministro della Salute e Speranza, lo avevamo annunciato, adesso ce l'ha data, lunedì mattina sarà qui all'Università di Teramo, altra giornata importante. Sì, altra giornata importante, sia per la presenza del ministro, ma anche e soprattutto perché il ministro viene per inaugurare un hub vaccinale importante, sia per la provincia che per l'intera regione Abruzzo, un hub vaccinale che potrà ospitare, penso, fino a circa 3.000-3.500 persone ogni giorno in un campus universitario. Perché un hub vaccinale ad Unite? Perché Unite è una università strettamente collegata al territorio, fortemente proiettata verso quella che chiamiamo normalmente terza missione, quindi la possibilità di aiutare e di interagire con il territorio. È un esempio di sinergia istituzionale con la ASL, la Regione, il Comune, che sono sempre fondamentali queste collaborazioni, altrimenti non si approda a nulla. E il mio intento, il nostro intento come Unite è quella di aiutare ad accelerare anche la campagna vaccinale ed arrivare per settembre, quindi alla fine della campagna vaccinale, a vaccinare tutti i nostri studenti. Mi sono vaccinato a Unite, c'è scritto qui sulla spilletta, la darete anche a Speranza? La daremo anche a Speranza, la daremo gratuitamente ovviamente a tutti quelli che verranno, grazie all'aiuto di tutti i collaboratori, insomma, verrà dei vari uffici, insomma, tutta la parte informatica e verrà allestito anche un centro di sosta e ristorazione, insomma, che è un servizio importante. Quindi il campus diventerà un momento di, come dire, non solo di vaccinazione, ma anche di sosta, distanziata e chissà, nell'arco di questi mesi organizzeremo anche degli eventi culturali, non solo a rilevanza regionale, nazionale, ma anche internazionale. La campagna di vaccinazione procede in maniera spedita, i contagi restano stabili, tendenti al ribasso. Per il direttore generale Maurizio Di Giosia, il lavoro che si sta facendo all'ASL Teramana contribuisce a tenere il virus sotto controllo. Che la campagna vaccinazione vada a gonfie vele, cosa nota? Che adesso arrivi il ministro Speranza per inaugurare questo hub all'università, è una cosa positiva, perché ce ne sono stati altri, ma mai Speranza era andata. E vabbè, questo deriva dai rapporti anche istituzionali che ci sono tra la parte governativa e la parte regionale, perché il ministro Speranza ha tenuto a dire del grado della collaborazione in atto attualmente con la giunta regionale abruzzese, in particolare con il presidente Marsilio, anche grazie all'aiuto che ci è stato dato dalla sua eccellenza Monsignor Leuzzi. Questo ha fatto agevolato l'interessamento del ministro a voler venire a rendersi conto di questa realtà importante che si è connubio tra università e ASL, dove in un'università si va a realizzare un hub vaccinale. I positivi sono in calo, i vaccini sono a un aumento. Possiamo dire che quantomeno la situazione sta leggermente migliorando? Guarda, io voglio essere fiducioso, perché noi stiamo cercando di spingere al massimo l'acceleratore dei vaccini, perché noi riteniamo che sia fondamentale per combattere la pandemia. Dall'altro lato ci stiamo impegnando anche a fare tamponi, a monitoraggio su tutto il territorio per cercare di scovare questi positivi e circoscriverli. L'impegno è tanto nella speranza che diminuiscono i ricoveri, diminuisca l'incidenza sulle terapie intensive, la pressione sulle terapie intensive e che quindi cominciamo a vedere un futuro più rosso, perché veramente oramai... E soprattutto quello che è fondamentale è che continuiamo a mantenere un comportamento coscienzioso di attenzione, usando la mascherina, usando i distanziamenti, evitando gli affollamenti, perché questa è un'altra delle armi importanti per raggiungere lo scopo. Veratv racconta la storia di Cesarino Costretto, a letto da oltre nove anni dopo un incidente stradale. La moglie fa appello al sindaco di Montorio, Alvomano, affinché venga vaccinato. Raccontiamo questa storia. Suo marito ha diritto al vaccino. Suo marito in questo momento è un allettato. Avete fatto la richiesta comune di Montorio, anzi al portale della regione Abruzzo. Dopo che è successo? Circa un mese fa siamo stati chiamati una prima volta, dalle ASL di Teramo, credo, dove mi si diceva che il vaccino per lui era pronto, sia per me che per lui. Quando io ho chiesto il luogo della vaccinazione, perché mi sposto normalmente in ambulanza, loro mi hanno detto, allora no signora, allora deve aspettare. Il luogo era il palazzetto di Montorio, giusto? Questo quando ci hanno chiamato la prima volta. Poi sono state fatte le vaccinazioni al mio paese e io sono stata gentilmente chiamata da una ragazza, adesso io non so chi. Da protezione civile? Sì. E mi hanno detto che c'era il vaccino per mio marito. E per lei? E per me. Quindi io ho chiesto se potevo, se venivano loro o se potevo portarlo io. Al che la ragazza mi ha detto devi attendere, mi devo informare. Fatto sta che il nome di mio marito era in quelle liste, ma noi non ci siamo potuti vaccinare. Si prova ad aver subito in fondo un torto, un torto anche grave, perché il suo marito sta lottando da circa nove anni per sopravvivere. Sì, perché la sua non è vita, la sua è sopravvivenza. Io tutto quello che chiedo lo chiedo per lui, ma io non vado con la lista della spesa, noi abbiamo la nostra dignità. Lui mantiene ancora la sua famiglia, mantiene lui e io dove posso arrivo io. Quindi io sono arrabbiata perché io pensavo di tornare dalle strutture e dare a mio marito tutta la serenità possibile perché ne ha diritto e io invece ogni mattina io mi alzo e so che dovrò affrontare l'ennesima battaglia. E dico basta perché lui è una persona, è un essere umano e ha diritto come tutti quanti. Io non voglio prevalicare altri, io voglio che venga riconosciuto un suo sacrosanto diritto. Al sindaco di Montorio che cosa gli vuole dire? Guardi, io forse determinate situazioni bisogna viverle. Forse noi non siamo abbastanza fortunati, non siamo fratelli di figli di papà di... Io vorrevo sapere una cosa sola, se in questa condizione si fosse trovata una persona a lui cara, se questa persona avesse ricevuto il vaccino. E si allarga il campo d'azione dell'inchiesta sul presunto appalto pilotato per i servizi psichiatrici extra ospedalieri indagato per corruzione anche il manager dell'ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi. Sentiamo Sara Delvecchio. Si allarga il campo di azione dell'inchiesta sul presunto appalto pilotato da 11 milioni di euro. Indagato per corruzione anche il direttore generale dell'ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi. L'avviso di garanzia che i PM Anna Benigni e Luca Sciarretta li hanno fatto notificare si rende necessario per effettuare un incidente probatorio sul materiale informatico sequestrato il giorno degli arresti di Sabatino Trotta, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL, morto suicida nel carcere di Vasto, di Domenico Mattucci, legale rappresentante della cooperativa sociale La Rondine, vincitrice della gara di appalto, e di Luigia Dolce, coordinatrice della stessa cooperativa, ora ai domiciliari. Diversi sarebbero i motivi del presunto coinvolgimento di Ciamponi nella vicenda. Il manager aveva firmato la giudicazione della gara. Ieri è arrivata una precisazione della ASL. La sottoscrizione del contratto con la cooperativa La Rondine è avvenuta unicamente a seguito dell'istruttoria condotta e condivisa dagli uffici aziendali competenti e previa consultazione con il legale di fiducia dell'azienda, si legge nella nota. Il punto è però che così come emerge dagli atti dell'inchiesta, ci sarebbero intercettazioni che fanno riferimento a cene con Ciamponi e Trotta. Altro nodo centrale riguarda il versante politico a cui sarebbe stato particolarmente interessato il medico Trotta, già candidato alle elezioni regionali del 2019 con Fratelli d'Italia. Ieri è stato infatti ascoltato dai PM, come persona informata sui fatti, il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, il quale ha risposto serenamente alle domande dei magistrati così come precisa allo stesso governatore al termine dell'audizione, durata quasi due ore. Marsilio ha riferito di essere stato particolarmente sorpreso di quello che è accaduto al primario Trotta. Esplosione nella fabbrica Casalbordino, il riesame boccia, il dissequestro dell'impianto, tre operai erano morti a dicembre, rilevati anche dei reati ambientali e amministrativi. Restano i sigilli alla esplodente Sabino di Casalbordino, dove lo scorso 21 dicembre un'esplosione causò tre morti. Il Tribunale del riesame di Chieti ha respinto la richiesta di dissequestro dell'impianto industriale proposto dalla proprietà. Qualche giorno prima di Natale, un drammatico incidente sul lavoro all'interno di uno dei manufatti provocò la morte di tre operai. Nicola Colameo e Paolo Pepe, di 45 anni, e Carlo Spinelli, di 54 anni. La Procura di Vasto ha aperto un fascicolo e scritto sul registro degli indagati titolari e funzionari della società che si occupa di smaltimento di materiale esplodente di varie origini, anche bellica, disponendo poi il sequestro probatorio dell'impianto, anche per reati ambientali e amministrativi. Successivamente alla tragedia, la prefettura di Chieti aveva sospeso le licenze. Il riesame Chietino ha bocciato il dissequestro spiegando, tra le altre cose, che l'impianto industriale risulta essere pienamente funzionante, con conseguente concretizzazione del rischio di reiterazione delle condotte delittuose in questione. Nelle scorse settimane la vicenda era ritornata alla luce dopo che i lavoratori della fabbrica avevano chiesto di poter tornare al lavoro con una protesta di piazza davanti alla Procura Vastese. Successivamente erano state avviati i provvedimenti per concedere la cassa integrazione agli operai. Sono scesi in piazza anche a Pescara ristoratori, baristi, organizzatori di eventi e showman per chiedere al governo una data certa per le riaperture. La manifestazione si è svolta in piazza Salotto. Ristoratori in piazza per chiedere una data certa sulla riapertura. Sì, stiamo aspettando con ansia che lo Stato ci faccia sapere che cosa dobbiamo fare. Dopo tempo siete stati chiusi, soprattutto qui in Abruzzo. Sì, infatti sono due anni che siamo, 16 mesi che siamo con l'ansia, si apre, chiude, apre, chiude e non ce la facciamo più. Titolari di ristoranti, camerieri, organizzatori di eventi, showman, imprenditori del gioco legale e baristi manifestano in piazza Salotto, nel cuore di Pescara, così come avviene a Roma e in altre città d'Italia, per chiedere al governo una data certa per la riapertura di determinate attività, chiuse ormai da tempo a causa della pandemia da Covid-19. La manifestazione è stata organizzata dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, con dimostrazioni di vario tipo, come mise en place, tavoli da gioco, banconi per cocktail e sfilate di abiti da sposa. A Pescara però, in piazza, non ci sono molte persone. Quella musica leggera, ascoltata in sottofondo, rimanda inevitabilmente alle serate trascorse in compagnia, nei locali, nei ristoranti, in occasione di eventi particolari che ormai da due anni non si svolgono più. Purtroppo il settore degli spettacoli, dell'intrattenimento, ha avuto una flessione incredibile a causa Covid e noi ci auguriamo di una ripartenza, soprattutto tornare a lavorare. Non ristori, ma occasione di creare dei protocolli di sicurezza che permettano di essere presenti sia con il piano bar, come può essere nel mio caso, l'animazione e anche con spettacoli piccoli, perché non tutti siamo dei grandi nomi dello spettacolo. Quindi viviamo di questo e abbiamo bisogno di sostegno. In questo momento l'unico modo è tornare in campo e quindi provare a ripartire. Chiediamo una riapertura in sicurezza, ma in realtà una riapertura immediata. Il settore degli eventi ha bisogno di grande programmazione, perché diversamente dalla ristorazione che in linea di massima vede una riapertura oggi e fila di persone fuori che ha bisogno e ha voglia di tornare a pranzo o prendere un caffè al bar serenamente, per un matrimonio, una comunione, un battesimo si ha bisogno di programmazione. I matrimoni hanno bisogno di 6-12 mesi di programmazione, quindi effettivamente come diceva lei due anni di fermo e ci stiamo proiettando al terzo, perché le cerimonie 2021 attuali, non avendo un protocollo, si stanno spostando al 2022 e gli sposi sono disperati. Nonostante le richieste avanzate nei mesi scorsi, proprio da ristoratori e albergatori, le bollette di luce e gas restano alte, così Anthony Romani che gestisce una ristorante a Cologna si dice pronto a chiudere la sua attività definitivamente se non arriveranno gli aiuti. Aveva sollevato il problema delle bollette salate nello scorso autunno, quando aveva ricevuto fatture da pagare per il consumo di gas e luce di oltre 7 mila euro, nonostante l'albergo ristorante fosse chiuso per il lockdown. Anthony Romani, proprietario con la famiglia della struttura Baia del Re di Cologna Spiaggia, proprio in questi giorni ha ricevuto altre bollette pesanti, in tre mesi 12 mila euro a fronte di un incasso di circa 2 mila euro, frutto dell'attività da asporto. L'ultima, 2.400 euro circa, per il consumo del gas, stessa somma chiesta a dicembre scorso, ma con un consumo di metri cubi notevolmente inferiore. Eccolo qui, lo possiamo vedere, con dei metri cubi in meno siamo alla stessa cifra. Questo è frutto che il nostro governo ha aumentato il prezzo del gas e il prezzo dell'energia. Dunque, che facciamo? Qua invece di andare indietro andiamo avanti. Aumentano le bollette, questi sono i primi risultati, i primi risultati. Noi siamo stanchi, non abbiamo più la possibilità di riaprire, perché ce la stanno togliendo, in qualsiasi modo ce l'hanno tolta e ti dico la verità che io personalmente non ho neanche più voglia di riaprire, perché in queste condizioni mi immagino quando tornerò a lavorare le bollette è quello che saranno, non lo so. Il livello di esasperazione ormai è arrivato ai limiti massimi. Lo stesso Romani sta pensando di non riaprire più la propria attività. La pandemia ha messo in ginocchio la sua e molte altre attività. Pensare di andare avanti a questo punto diventa un'utopia. Infatti non si andrà più avanti, qui siamo arrivati a non lo slogan io apro ma io chiudo. Siamo pronti invece di riaprire a chiudere le attività, perché ci hanno messo oramai il cappio alla gola, non è più possibile andare avanti. State pensando comunque, un po' come sta accadendo in tutta Italia, ad una manifestazione di protesta ma pacifica? Sempre pacifica, i miei colleghi di Roseto si stanno organizzando, anche io ci stiamo organizzando, perché siamo arrivati tutti all'esasperazione, dai bar ai ristoranti alle pizzerie, dagli alberghi, non ce la facciamo più e la stagione è alle porte. Avete delle indicazioni comunque, una speranza? La speranza è l'ultima a morire ma le indicazioni ancora oggi non ci sono. Noi viaggiamo nel buio. Dopo il servizio di Lino Nazionale apriamo la pagina sportiva. Pescara Virtus Entella, forte rischio. L'orientamento dell'Atl sembra essere quello di fermare la squadra bianca-azzurra dopo le sei positività accertate. Cinque componenti del gruppo squadra e uno dello staff. Domani verrà presa una decisione e l'eventuale stop potrà essere di 10 o 14 giorni se dovesse essere riscontrata la variante inglese. Di questo e tanto altro si parlerà questa sera all'appuntamento con Pescara Time a partire dalle 20.30. Ora andiamo in Serie C. Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare per il Teramo. Ora serve una reazione contro il Bisceglie per non fare un'altra figuraccia. Giussi Cingoli. Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare per il Teramo. Contro la Cavese è arrivato un altro KO che non lascia spazio a giustificazioni. Non è bastato quello con la Vibonese che ha scatenato il duro sfogo del presidente e ha umiliato un'intera città. Ma è arrivata un'altra figuraccia sul piano del risultato e della prestazione contro l'ultime classifiche con un piede in Serie D. Ora bisogna cercare di rialzarsi subito. Se non ci fosse stato un inizio importante di stagione per il Teramo 23 punti in 10 gare giocate, il diavolo sarebbe oggi in zona play-out. Il Teramo nella prima parte di stagione è stata una squadra sbarazzina, mentalmente serena, che vinceva anche con le squadre che si chiudevano. Invece nel finale del girone di andata e soprattutto nel girone di ritorno non è riuscita più a vincere. Dalla dodicesima giornata in poi la musica è decisamente cambiata e il bottino è stato appena di quattro vittorie in 23 partite, 10 pareggi, 9 le sconfitte per un totale di 22 punti raccolti. Questa squadra dal punto di vista psicologico non è più quella di inizio stagione. Pace a fine gara contro la Cavese ha parlato di limiti tecnici di questo gruppo, davvero una squadra che è stata forse sopravvalutata. La sconfitta con la Cavese obbliga ora il Teramo a guardarsi alle spalle per non correre il rischio di scivolare addirittura fuori dalla zona play-out. Il vantaggio sull'undicesimo posto si è ridotto a 5 lunghezze e il Monopoli deve recuperare due gare e il Palermo potrebbe scavalcare in Biancorossino ottava piazza se dovesse battere mercoledì il Foggia nel recupero. Dunque a tre turni dalla finale della regular season la situazione si è improvvisamente complicata per la truppa di Paci che ora non deve mollare. Domenica al Bonolis arriva al Bisceglie, fischio d'inizio alle 17.30, altra formazione di bassa classifica e c'è da stare poco tranquilli in Casa Biancorossa. Ed è tutto per questa edizione della TGA, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.